Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del Cielo, rallegrati. Alleluia. Gesù che tu hai portato nel seno. Alleluia. E risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega per noi Dio. Alleluia. Rallegrati Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del Tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.